E' un'opera primissima che raccogna una giornata in cui c'entrano delle foglie di tre adolescenti, uno dei quali perde un mazzo di chiave in mezz'ora dei gruppi di foglie e quindi passano questa giornata, che dovrebbero passare anche in un'altra maniera, a cercare queste foglie con intervalidare, poi già torna a casa, poi torna fuori, hanno una cerimonia funebre alla quale assistere e chiacchierano, naturalmente, le tipiche chiacchiere che si fanno nell'adolescenza, chiacchierano ovviamente di fidanzate, di ragazze con le quali vorrebbero fidanzarsi, di amici, di casa e di una serie di cose tipiche di quel momento dell'adolescenza. Il regista si chiama Alejandro Iglesias, è un'opera primaria dei ragazzi che racconta e ha portato con sé anche due dei ragazzi, cioè Fabrizio Santini, che è Lucas, e Matteo Lena, che è Lidio, che ha portato con sé anche due dei ragazzi. Manca un'opera, il terzo, oggi ci ho chiesto perché non c'è un'opera, perché ruba il lavoro al teatro, quindi ha da fare. Certo. Forza, dici qualcosa, far parla la tua testata, che è un'opera, che è un'opera, che è un'opera, che è un'opera, che è un'opera. Buonasera, grazie, voglio parlare in spagnolo, Grazie a tutti, sono estremamente emocionato perché questa è la prima mondiale del film, mi permette, mi permette, mi permette, mi emocione e mi permette, grazie a tutti. E, bueno, mi gustaría hacer questo breve, perché già tengo molta emozione di che vedo la film, e solamente, dicerci che al final della film va a avere un Q&A, una sesione di domande e risposta, e mi encantaria che se quedarono tutti i che possano per avere un dialogo che per me è lo più importante. E vorrei, intendo essere gravissimo, proprio non dire altro, perché voglio che vediate il film, e quello che vorremmo iniziare più tanto è, dicendo che alla fine del film, dopo la proiezione, che sarà il Q&A, una sesione di domande e risposte, di piacere fronte, che tutti quelli che possano si fermino per poter veramente scambiare idee e parlare, che è una bella chiacchierata sul film. Grazie, grazie per venire. Grazie a tutti.